Il giusto peso del fisco, fiscalità ed equità per una crescita sostenibile. Era questo il tema del convegno promosso lunedì pomeriggio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari dal Partito dei Sardi. La Sardegna è la regione italiana con più cartelle esattoriali insolute. Un dramma che investe situazioni differenti, non solo commercianti, artigiani e piccole e medie imprese, ma anche singoli e famiglie. More e interessi che costringono aziende a chiudere o a sopravvivere con il nero, cittadini che si vedono ipotecate le proprie case, coltivatori che ricevono indennità o contributi comunitari con grande ritardo e che non riescono così a coprire i debiti con il fisco. Casi raccontati da Luigi Pelazza, uno dei volti della trasmissione televisiva Le Iene, presente al convegno, insieme al presidente del Partito dei Sardi, Paolo Maninchedda, e all'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, Angelo Capula. I lavori sono stati introdotti dal coordinatore provinciale del Partito dei Sardi, Ottavio Sanna. Equitalia oggi non esiste più, assorbita dall'Agenzia dall'Entrate, ma sono tuttora parecchie le situazioni dei cittadini indebitati con il fisco. Come sono tante le possibilità di ricorsi e contestazioni nel caso di errori nei conteggi delle cartelle, vizi di notifica, applicazioni indebite di interessi e così via. Occorre però conoscere questi strumenti, spesso ignorati dal cittadino. Ecco perché Pelazza ha fondato un'associazione diritti al diritto, da cui è preso vita il braccio operativo La Sark, società costituita da professionisti della gestione di debiti con le amministrazioni pubbliche e bancarie. Ci sono poi tutti i limiti della realtà sarda. Sassari risulta la città con il maggiore carico fiscale, il 66%, 6 punti in più rispetto a Cagliari, 10 su Iglesias. La differenza del total tax rate in Sardegna, nelle diverse città della Sardegna, è un'evidente dimostrazione che non è vero che i sistemi economici su cui la tassazione italiana si applica sono uguali. Non è vero. Il convegno è stato registrato dalle telecamere di Canale 12 e a breve sarà inserito nel palinsesto della nostra emittente.